Uedì, la scelta di Federico scatena dubbi, perde le staffe, non posso uscire pazza. La scelta di Federico Nicotera scatena dubbi e caos nello studio di uomini e donne. Nel corso dell'ultima puntata del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi. La situazione è degenerata, complice l'atteggiamento di Carola che ha messo alle strette il tronista. La corteggiatrice ha ammesso di essere stufa dell'indecisione di Federico che, ad oggi, sostiene di non avere ancora le idee chiare sulla scelta da compiere. Spazio anche i pungenti commenti di Gianni e Tino che, questa volta, si sono scagliati veementemente contro il giovane tronista romano. Nel dettaglio, il tema legato alla scelta di Federico a uomini e donne continua a essere uno degli eventi più attesi di questa stagione del talk show Mediaset. Il suo percorso va ormai avanti dallo scorso settembre, da un po' di mesi il ragazzo ha comunque deciso di concentrarsi su Alice e Carola. Le due pretendenti che sono giunte al rush finale. Durante l'ultima puntata del talk show di Canale 5, Carola si è ritrovata nuovamente a discutere con il tronista e questa volta ha perso le staffe. La corteggiatrice non ha nascosto la sua amarezza per questa continua indecisione di Federico che, ad oggi, sembrerebbe non avere ancora le idee chiare sul da farsi. Vorrei sapere qualcosa, non reggo. Non voglio uscire pazza da qui, ha sbottato la giovane corteggiatrice di uomini e donne lanciando così la sua frecciatina al vetriolo nei confronti del tronista. Insomma, Carola ha messo alle strette Federico e questa volta il suo atteggiamento ha spinto i due opinionisti a prendere la parola. Gianni è stato particolarmente duro nei confronti del tronista, facendogli presente il fatto che si sarebbe trasformato nel cagnolino di Carola. Anche Tina Cipollari non ha affatto gradito il modo di fare di Carola e questa fretta che avrebbe messo il tronista per la fatidica e attesa scelta finale. Lasciala fuggire, addirittura ti sta mettendo fretta sulla scelta, ha sbottato Tina invitando il tronista a valutare bene la situazione prima di giungere a conclusioni affrettate. Non è mancata neppure una stoccata al vetriolo nei confronti di Carola, accusata da Tina di non avere una personalità forte e decisa. Come se non bastasse, Federico si è ritrovato a fare i conti anche con le critiche dell'altra pretendente Alice. Che non ha gradito questo siparietto e ha accusato il tronista di farsi imbambolare da Carola. Cosa succederà a questo punto? Lo scopriremo nel corso delle prossime registrazioni di UED del 19-20 febbraio. Acum că nu... Grazie a tutti